Non poter avere un posto caldo, non poter avere un materasso dove dormire in queste stagioni penso che sia un segno di grande sofferenza e grande disagio. Proviamo appunto a venire incontro a queste difficoltà. Anche per fare una doccia oppure lavarsi con acqua calda che noi diamo per scontato ma le persone che vengono per la strada invece non lo hanno assolutamente. Ha riaperto le sue porte il dormitorio di Arezzo gestito dalla Caritas Diocesana fino al prossimo aprile darà così ospitalità e rifugio per la notte alle tante vite e margini. Qui abbiamo a disposizione 12 posti letti per uomini, la richiesta è essenzialmente maschile per la maggior parte. Sono divisi in due camere, ogni camera ha la sua doccia, ha comunque i suoi servizi igienici. Quello che noi offriamo a queste persone è un letto con tutto materiale, usegetta per un discorso anche ovviamente igienico Lo scorso anno nel periodo di apertura sono stati oltre 2000 i pernottamenti, 63 le schede che sono state compilate corrispondenti ad altrettante persone che hanno fatto richiesta di accesso alla struttura. Un numero superiore all'anno precedente è destinata ad aumentare. Sono persone in cui l'età media non è elevata, si parla di persone che hanno 40-50 anni, prevalentemente di nazionalità straniera. Quest'anno abbiamo avuto già da diversi mesi, anche l'anno scorso e negli ultimi mesi, una predominanza di persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh. Sono persone che già qualcuno hanno utilizzato anche in passato l'accoglienza invernale, altre persone invece sono dei volti nuovi. Agli operatori dedicati alla gestione del servizio si affiancano 20 volontari per l'orario serale, 9 per il servizio di pulizia quotidiana dei locali ed un medico per visite e controlli periodici. Le persone che vogliono utilizzare e hanno bisogno del servizio di accoglienza invernale si presentano al nostro centro di ascolto. A seguito di un colloquio di conoscenza viene dato un pass che gli dà la sicurezza di pernottare per 15 giorni. Cosa lasciano questi mesi di apertura del dormitorio a fine stagione? Lasciano un sentimento ambivalente. Da una parte un po' di serenità perché non abbiamo risolto la condizione di queste persone, ma almeno gli abbiamo dato un riparo caldo per qualche mese. Si parla comunque di persone di vite umane, ferite e fragili. Questa è la prima cosa. Un senso di amarezza perché chiuso la nostra accoglienza invernale, noi più di questo non possiamo fare al momento. Ecco, queste persone sappiamo che tornano per strada. Questa è la prima cosa.